benvenuti nel centro sportivo san filippo siamo situati nella zona ovest della città a pochi chilometri dal casello autostradale di brescia ovest il nostro centro sportivo dispone di numerosi impianti dal palazzetto polivalente che ospita fino a 2.400 spiegatori per l'attività di palacanestro, pallavolo, pallamano e numerosi campi di calcio che li gioco a 11, a 7 e a 5 giocatori inoltre dispone di tre campi da tennis al coperto e uno esterno in terra battuta nella struttura che disegna un'ampia volta provano spazio oltre al palazzetto numerosi ambienti che vengono utilizzati per molteplici attività tra le quali si citano danza, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, fitness e palestra inoltre dispone di una piscina coperta da 25 metri e un video stivo vuoi utilizzare e prenotare gli impianti e avere informazioni utili carica l'applicazione SanFelippo per iPhone grazie a tutti grazie a tutti